È un successo che chiaramente ci permette di lavorare con un po' più di serenità perché non è semplice dopo tante partite non ottenere punti, soprattutto nel momento in cui si crede di meritarli quei punti che abbiamo lasciato per strada. Anche se in una partita dove non siamo stati quelli che abbiamo fatto vedere in precedenza, però questi tre punti ce li prendiamo e muoviamo la classifica. Penso che per quello che abbiamo fatto vedere in precedenza qualche punto in giro potevamo anche averlo prima. Ma va bene soprattutto lo spirito dei ragazzi che non hanno mollato contro una squadra di livello alto, una squadra che ci ha messo per tante situazioni sotto. Però abbiamo tenuto botta, in dieci abbiamo fatto gol, abbiamo portato a casa un risultato importante. Ma anche lì avevamo bisogno di ottenere un risultato per cercare di venire fuori da un momento negativo. Anche qui è stato ricercato questo e sono contento per i ragazzi perché è frustrante, l'ho detto in precedenza, riuscire a fare prestazioni e non portare nessun punto a casa. Per loro è stata una liberazione, per tutti è stata una liberazione perché è un periodo negativo e ci tenevamo a superarlo. Però è una partita dove dobbiamo prendere tante cose positive, migliorare su quelle che non abbiamo fatto bene. Però il campionato è ancora lunghissimo. Mi auguro che questo sia un qualcosa che possa dare più fiducia ai ragazzi, che possa far tornare quel clima che c'era prima di questo periodo negativo. Mi aspetto chiaramente nella partita successiva, da questo punto di vista, grande entusiasmo, grande voglia di proporre, di giocare, di divertirsi. Mi auguro che queste qualità e queste situazioni che fanno prestazione e che riescono a mostrare tutto quello di buono che abbiamo, possano venire fuori già dalla prossima partita. Questa è stata una partita che grande merito va dato anche all'avversario perché è stato un avversario che ci ha costretto a soffrire, caratteristica che quando vogliamo riusciamo a farlo bene. Ci ha costretto a giocare molto più bassi rispetto al solito per la loro qualità, per la loro abilità, per la loro bravura. Quindi quando ci sono questo tipo di partite abbiamo visto che se c'è da modificare qualcosa, se c'è da lavorare in maniera diversa, quando vogliamo riusciamo a farlo. Quindi sono partite dinamiche che vengono fuori anche per quello che dimostra l'avversario. E' normale che cerchiamo di concedere poco, l'abbiamo fatto fino a questa partita, abbiamo fatto tirare un po' troppo il Napoli. Ma ripeto, il Napoli è una squadra che in questo momento arrivava da una vittoria 4-1 con l'umore alle stelle, con un grande entusiasmo. Quindi sapevamo di soffrire, però abbiamo visto che ne siamo capaci e se dovessero venire fuori prestazioni come questa cercheremo di difenderci come abbiamo fatto a Napoli. No, Giassi e Enzola sono due giocatori che hanno caratteristiche uniche perché sono due giocatori che si sacrificano, che vanno forti quando non hanno la palla, che cercano di lavorare sulla riconquista in maniera determinata. In partite come questa la loro caratteristica viene esaltata. Abbiamo tante qualità a disposizione, abbiamo gente che stiamo recuperando, vedi Verde che è mancato da tanto tempo. Mi aspetto che si ritorni al gol con i vari Farias, i vari Agudelo, tutto il resto della batteria di attaccanti esterni che abbiamo. Saponara, il ragazzo è motivatissimo, non è in grande condizione, quindi stiamo cercando di gestirlo bene perché non vogliamo avere problemi dal punto di vista fisico. È in ritardo di condizione, lo sfrutteremo per quello che può darci nell'immediato. Su sua richiesta gli piacerebbe lavorare sull'esterno, gli piacerebbe giocare sull'esterno di sinistra per cercare di lavorare venendo dentro al campo, cercando di duettare con la nostra prima punta. Quindi gli piace quella zona di campo, stiamo lavorando per metterlo, come ho detto prima, nelle migliori condizioni. Penso che ne è convinto lui. È un ruolo dove noi possiamo avere bisogno della sua qualità, della sua intelligenza e speriamo di averlo al più presto in una condizione ottimale e che ci dia quello che in questo momento ci sta mancando. È una squadra che già l'anno scorso ha un'identità ben precisa, ha fatto un gran finale di campionato, quest'anno sta ottenendo risultati di valore, vedi l'ultima vittoria. È una squadra che ha a disposizione dei calciatori che in qualsiasi momento possono risolvere le partite. Ha una grande solidità, soprattutto quando non è in possesso, lavorano molto bene, si sacrificano tutti e poi ripartono velocemente. Quindi è una partita dove bisogna stare attenti a non forzare le giocate, a non consegnare tanti palloni per le loro ripartenze, a cercare di capire bene e percepire il pericolo e poi grande partita di sacrificio, di attenzione, di personalità. Perché contro queste squadre qua, se non metti in campo queste qualità, è normale che prima o poi ti castigano. Però, come ho detto prima, mi auguro che questa vittoria ci dia quel qualcosa in più a tutti e si cerchi di continuare su questa strada. Cercare di ottenere qualche risultato utile consecutivo è il nostro obiettivo e cercheremo di farlo già contro la Sampa.